Quante volte andiamo al bar a bere il caffè e nell'attesa aspettiamo. Aspettiamo cosa in realtà? Aspettiamo che un'altra persona ci dia il permesso di fare quell'azione, in questo caso bere un caffè. Ma perché aspettiamo? Perché aspettiamo che siano gli altri a darci la possibilità di fare? Perché non siamo noi a darci la possibilità di scegliere cosa fare? E quindi se noi possiamo scegliere cosa fare? Come comportarci? Chi essere? Io posso scegliere di bere un caffè, posso scegliere di attendere il caffè, ma posso anche dire io voglio un caffè, sono a casa, me lo bevo a casa, non ho attesa, perché lo faccio subito o lo faccio da me. Se no vado al bar, mi richiedo, aspetto che la cameriera mi serva, aspetto che mi faccia il caffè, aspetto che dia prende l'ordine e tutto questo aspettare, quindi aspettare, quindi rimandare e quindi dare la possibilità agli altri di decidere per il nostro gusto della vita. Non mi sembra molto bello, vero? Pensaci!